Ciao ragazze, allora, primo video del 2013. Inizio subito il video augurandovi un buon anno. Spero che avete passato delle buone feste. Io, come alcuni di voi sanno, sono in Italia, sono venuta qui a passare le vacanze. Fate per l'assenza, ma ho voluto passare questi giorni in famiglia. Come potete vedere, sì, nuovo anno e nuovo look. A me non mi dispiace. Fatemi sapere se anche a voi piace questo mio nuovo look. Sicuramente molte di voi mi chiederanno qual è il rossetto che indosso. Il numero 009, Passione, di Bella Oggi. Questo qui. Ed è un colore davvero molto molto bello. E un'altra cosa particolare è anche il taglio del rossetto. È un taglio molto squadrato rispetto ai rossetti normali. In questi giorni ho realizzato uno spot su un evento che ha organizzato il mio ragazzo. Vi lascio qui il link al video se volete vedere cosa ho realizzato. Anche lui è un canale su YouTube, quindi se vi va, vi invito anche a vedere il suo canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come potete vedere, nuovo anno e nuovo look. Sì! Mi sono fatta il parrucchino! Comunque... Comunque... Comunque...